Abbattimento delle barriere architettoniche nel distretto di Vierieti per rendere fruibile a tutti i servizi erogati con il trasferimento entro febbraio in Vierio Sparto. Se ne è discusso nella sede della direzione dell'Asla di Pescara con i medici interessati, tra i quali il dottore Ildo Polidoro, ma anche con l'assessore comunale Dinisio e carrozzine determinate con Claudio Ferrante. Naturalmente c'era il direttore generale Ciamponi che ha anche fatto il punto della situazione Covid a Pescara e nella provincia. La situazione è sotto controllo, stiamo cercando di gestire questa criticità che abbiamo riscontrato in questi giorni, abbiamo come sempre un pronto soccorso affollato perché ricordo che il nostro pronto soccorso non è un pronto soccorso pescarese, è un pronto soccorso del territorio, arrivano da Francavilla, dai paesi della provincia di Termo, da San Buceto, quindi abbiamo moltissimi accessi. Poi ha parlato della pressione sugli ospedali con i ricoveri dei pazienti Covid. È gestita, sicuramente non abbiamo, sicuramente se avessimo più coordinamento con il pronto soccorso forse questo non accadrebbe. Negli ospedali abbiamo una pressione dovuta all'iperaflusso del pronto soccorso, però stiamo andando avanti con tutte le attività, quindi non ci stiamo fermando. Rispetto al punto sui vaccini. Noi abbiamo fatto open day, open night, aperture serali, aperture notturne, vorremmo farne anche altro, l'unica cosa che dico forse ci vorrebbe più collaborazione, magari gli over 50 potrebbero darci una mano. Aspettavamo qualcosa in più, per quanto riguarda l'infanzia abbiamo avuto sicuramente dei numeri importanti, però siamo disposti a fare ancora aperture che possano darci maggiori numeri. Il dottore Ildo Polidoro, direttore dell'unità operativa complessa di medicina legale, in conferenza stampa ha parlato poi dei contagi stabili, si è detto moderatamente ottimista su una possibile discesa dei casi, pur non dovendo assolutamente abbassare la guardia.